Buongiorno a tutti, benvenuti a Awareness Fest, come sicuramente saprete quest'anno il Awareness Fest è dedicato al tema della semplicità, adesso noi andiamo a parlare di qualcosa che nell'immaginario è legato alla semplicità, perché andiamo a parlare di vino, pensiamo un pezzo di pane e un bicchiere di vino, è l'idea della semplicità, in realtà noi cercheremo di spiegare come sia un po' tutto più complicato, andremo a parlare di come anche il settore della produzione vinicola stia facendo i conti con l'innovazione e per parlare di questi temi io chiamo sul palco con me Riccardo Pasqua, che è amministratore delegato Pasqua, Vigneti e Cantine S.P.A. e il professor Giovanni Battista Matti, che è professore di viticoltura all'Università degli Studi di Firenze. Intanto benvenuti al Awareness Fest, io comincio chiamando in causa il professore, noi quando ci siamo sentiti per preparare questo talk mi diceva che ci sono tre tipi di innovazione in questo settore, informatica, chimica e genetica, queste sono le tre parole che lei ha utilizzato. Sì, più o meno sono queste, sì. Le chiedevo se appunto ci può spiegare un attimino brevemente di cosa si tratta, come sta cambiando la produzione del vino. Sì, molto velocemente, quello che interessa nella viticoltura è fare innovazioni sempre con il tema della sostenibilità, la viticoltura deve essere sostenibile nel senso più generale del termine. La viticoltura è cambiata tantissimo nel corso degli anni, qui vediamo in bianco e nero una foto degli anni 50, scusate, che peraltro è la viticoltura che si faceva anche nel 1500. Siamo passati all'epoca della viticoltura opulenta, del periodo in cui si consumavano 120 litri di vino a persona ogni anno e quindi c'era bisogno di produrre tanto senza curarsi della qualità. E poi siamo passati invece alla qualità, se scopro qual è... Ok, questo qui di fianco. Ah ok, questo qui senza... no, no, va benissimo. Siamo passati poi alla viticoltura di qualità, che è la viticoltura moderna, orientata a produzioni più ridotte, però di maggior impatto qualitativo. Come aumentare l'efficienza? Le vie sono fondamentalmente tre, se escludiamo, se non consideriamo per un momento le tecniche che comunque si sono molto evolute nel corso degli anni. La via chimica, la chimica è passata da questa tipologia di trattamenti in cui si trattava senza curarsi molto dell'ambiente, con danni che poi sono stati verificati nell'ambiente stesso, siamo passati invece a produzioni di componenti chimiche molto più attente all'ambiente. Siamo passati alla lotta biologica integrata, l'Italia è il leader in questo settore. Le trappole, le soglie di intervento, quindi trattamenti solamente quando servono e nella quantità che servono. E poi la via genetica, questi due signori sono Watson e Crick, nel 62 hanno preso il premio Nobel per la medicina per aver scoperto la struttura doppia elica del DNA. Da qui in poi è stato tutto un susseguirsi di scoperte che ci hanno portato a, per esempio, OGM, a degli organismi geneticamente modificati, ma anche a scoperte tipo genoma editing, in cui non c'è una modifica vera e propria del DNA, nel senso che non arrivano proporzioni di DNA da altri individui, ma c'è una correzione del DNA delle piante. Magari dopo possiamo approfondire questa cosa. Le università di Milano, di Udine e l'Istituto di San Michele all'Adige hanno lavorato fin dagli anni Ottanta sul miglioramento genetico tradizionale e hanno messo a disposizione dei viticoltori diverse cultivar che sono, non direi resistenti, ma meno sensibili alle principali malattie per cui ci possono consentire di risparmiare molti trattamenti, quindi un grosso risparmio sì economico ma soprattutto ambientale. E poi la meccanizzazione e l'informatica dalle trattrici degli anni Cinquanta siamo passati a quelle più moderne. Adesso la viticoltura si guarda dal cielo con i aerei, satelliti, droni. Possiamo mappare e monitorare piccole porzioni del vigneto in modo che poi le macchine opportunamente guidate dal satellite possano intervenire in maniera differenziata, concimando di più dove c'è più bisogno, concimando di meno dove c'è meno bisogno e così per i trattamenti. Tutto in automatico, il guidatore deve solo muovere il volante, i principali comandi e la macchina sa in ogni momento dove si trova e cosa può fare. Non ci dimentichiamo l'impronta carbonica, noi emettiamo tantissima CO2 nell'ambiente, come sapete sta aumentando, siamo passati dalle 320-330 parti per milione negli anni Ottanta alle attuali 400 ed è in crescita. Ricordiamoci sempre, e concludo questo brevissimo escursus, ricordiamoci sempre del proverbio dei Masai che dicono che la terra non è un dono dei nostri padri, è un prestito dei nostri figli, ai quali dovremmo restituirla possibilmente in condizioni migliori di come l'abbiamo trovata. Grazie mille. Grazie a lei. Dunque, il professore ci ha spiegato quali sono le tipologie di innovazione introdotte nella viticoltura. Io chiamo in causa Riccardo Pasqua, voglio chiedergli che cosa stanno facendo loro come azienda, che tipo di innovazioni stanno mettendo in campo. Grazie Riccardo dell'introduzione e professore della presentazione. Stiamo mettendo in campo alcune delle novità che il professore faceva vedere poco fa e quando abbiamo sentito il titolo di questo festival, il tema di questo festival che è la semplicità, ovviamente in un ambiente wired, molto teso all'innovazione, abbiamo detto perfetto, abbiamo un progetto molto interessante di cui parlare, che innova avvicinandosi parecchio a come si faceva il vino parecchio tempo fa e quindi in modo semplice. Questa tecnica ha anche un nome anglosassone molto sexy, si chiama precision farming, come raccontava in alcune slide il professore, ed è semplicissimo, si tratta semplicemente di evitare una programmazione preventiva di trattamenti e semplicemente intervenire in vigneto solo quando serve. Ora ovviamente il futuro ci aiuterà con l'utilizzo di droni che hanno delle telecamere ormai ad altissima definizione che riescono a inquadrare, a zoomare fino a 3 cm quadrati, quindi con una precisione veramente incredibile e quindi a distribuire in modo variabile i trattamenti, oppure semplicemente andando in vigneto ogni giorno e cercando di capire che cosa fare, quali interventi fare e quindi minimizzare l'apporto di trattamenti e alla fine della fiera anche migliorare il profilo economico, migliorare la redditività. Per andare nel concreto, cosa abbiamo fatto noi a Pasqua? Noi siamo un'azienda relativamente grande, abbiamo dedicato però un piccolo progetto, un vigneto, siamo partiti da un vigneto piccolo di un ettaro e mezzo per fare il primo valpolicella naturale, che cosa vuol dire? Vuol dire che non utilizziamo niente, né in vigneto né nella vinificazione, ovviamente stiamo imparando questa metodologia, quindi abbiamo chiesto l'aiuto a un esperto italiano che viene dal Piemonte, si chiama Lorenzo Corino, che è venuto a vedere il vigneto e ha accettato di lavorare con noi. È un progetto che è di dimensioni relativamente piccole, è un primo esperimento, ma su cui contiamo moltissimo. È veramente fantastico vedere come piccoli accorgimenti possono fare la differenza. Per esempio, il professore mi correga se sbaglio, gli agenti patogeni della vite svernano per terra, sulle foglie morte per terra. Corino dice se tu tagli l'erba, se tu sfalci quando il clima è secco, la polvere che alzi disperde gli agenti patogeni su tutto il vigneto, quindi sfalciate l'erba quando ha piovuto. Un accorgimento veramente semplice, se vuoi banale, ma che vi risparmia di dover intervenire e quindi è fantastico. Per adesso la fermentazione sta andando molto bene, usiamo solo tini di legno inerti, quindi per preservare veramente il profilo organolettico del vino e quindi siamo molto contenti di vedere cosa succederà con questo piccolo progetto. Ci parte in piccolo anche perché questo tipo di innovazione ha degli elementi di rischio che sono più alti di quelli tradizionali, bisogna seguire con molta attenzione lo sviluppo. Con grandissima attenzione, ha degli elementi di rischio enormi, dall'altra parte però se si riesce hai una qualità delle uve fantastica, oltre ovviamente a una salubrità delle uve incredibili, hai una capacità di invecchiamento molto più elevata, i antiossidanti naturali fatti con il metodo corino sono molto più efficaci e potenti, gli antiossidanti naturali sono i polifenoli, i tannini. Mi interessava capire anche come un'azienda come la vostra, che giocoforza è legata a delle tempistiche che non detta lei, perché cresce con i suoi tempi, come gestite il cambiamento? Perché un'azienda nella meccanica sostituisce i macchinari, una volta che ha fatto l'investimento e ha sostituito i macchinari, fa lo switch off e dal giorno dopo ha questa novità. Invece per voi c'è un elemento di rischio, ma vuole anche magari dire, non so, se si arriverà davvero all'editing genetico, rimuovere i filari da un vigneto, sostituirli, quindi aspettare che crescano, che diano frutti, quindi è una gestione molto lunga, non è un cambiamento immediato? Assolutamente, il mondo del vino è così, si pensa a lunghissimo termine, solo per darvi un'idea, una nuova pianta, il professore mi corregga, ci vuole almeno 6-7 anni prima che dia una produzione di qualità, quindi sono progetti a lunghissimo termine, però se non iniziamo non... Ovvio, però ci vuole anche il coraggio di dire cominciamo. Anche per l'ambito dei vini naturali c'è stata un'evoluzione fantastica, i vini naturali di qualche anno fa non sono quelli di oggi, vuol dire che pian piano stiamo migliorando le nostre tecniche e il risultato si vede anche nel bicchiera. Soprattutto perché a questi vini ci stanno arrivando aziende che producevano quei metodi tradizionali, quindi sanno che cosa ci deve essere dentro la bottiglia, cioè la produzione di vini naturali come di vini biologici non deve essere una scusa per commerciare un prodotto scadente e questo le aziende di oggi che sono i cosiddetti produttori biologici di ritorno lo hanno capito. Perché è giusto che ci sia una certificazione di processo, ma ci deve essere in certo qual modo anche una certificazione di prodotto, altrimenti è tutto inutile. Se nelle bottiglie ci metto l'acqua dell'Arno posso fare tutti i processi più naturali possibile, ma poi il prodotto non ha senso. Per cui quando le aziende che hanno sempre prodotto vini di qualità tornano indietro, tornano a questi processi naturali, sanno che cosa ci deve essere nella bottiglia e questo è fondamentale a mio modo di vedere. No, sono d'accordissimo. Sì, sì, è inutile giocarci, cioè dobbiamo cercare di renderlo efficace e quindi di avere una qualità del bicchiere che poi può avere un impatto sul mercato e può spostare audience anche su quella che oggi è una nicchia molto piccola. Chiaro. Grazie. Citavo prima il professore l'editing genetico che è una tecnica che sul piano scientifico è diverso da quello che porta alla produzione di OGM, di tanto famigerati OGM. sul piano legislativo c'è ancora un grosso punto di domanda, nel senso che negli Stati Uniti si è deciso che sono due cose diverse. In Europa ancora deve esserci un pronunciamento da parte dell'Unione, c'è però un dibattito fra i paesi, nel 2015 l'allora ministro Martina cambiò la posizione italiana dicendosi favorevole all'introduzione di queste tecniche, qualche settimana fa a luglio la Corte di Giustizia europea invece ha affermato che le cosiddette new breeding techniques devono essere assimilate agli OGM, però questa è una sentenza, non è una direttiva europea che dovrebbe arrivare a questo punto credo col prossimo Parlamento. Io chiedo al professore se in tre parole ci spiega come funziona e poi volevo capire sia da lei da un punto di di vista scientifico che da Riccardo Pasqua da un punto di vista di chi il vino lo produce, cosa pensate di queste tecniche se possono essere interessanti? Con il riferimento che facevamo prima, un filare geneticamente modificato significa tirare su e ripiantare con i tempi lunghi che dicevamo prima. Allora le due cose sono molto diverse, il regolamento sugli OGM dice che non si possono coltivare nemmeno per fini sperimentali, perlomeno qui in Italia e consiste nel staccare un pezzettino di DNA da una pianta, da un individuo e inserirlo nel DNA di un altro individuo, fossero anche fratelli, comunque si tratta di un organismo geneticamente modificato, un OGM e questo è vietato. Il regolamento è abbastanza nebuloso invece per quanto riguarda il genoma editing, qui non si tratta di inserire DNA proveniente da un altro individuo, ma di modificare il DNA dell'individuo stesso, magari cancellandone un pezzetto. A cosa serve questo? Perché la peronospora attacca la vite e non attacca l'olivo? Perché trova nel DNA della vite una serratura di cui lei ha la chiave e quindi può entrare perché riconosce la vite. Se io gli tolgo questo pezzettino di DNA o meglio opero quello che si chiama silenziamento genico, cioè il gene non si esprime più, il gene della serratura per così dire, viene spento in pratica, viene disattivato, la peronospora non la riconosce più e quindi, e questo ovviamente è solo un esempio, e quindi la pianta può essere immune da questi attacchi. Bruxelles si deve pronunciare, è da tanto tempo che ci sta lavorando perché credo sia più di un anno che ci sta lavorando su questo aspetto. Io personalmente non voglio dire che sono favorevole a coltivare tutti gli OGM di questo mondo o tutte le piante geneticamente modificate, però le voglio studiare, cioè vorrei studiarle piuttosto che riceverle da altre nazioni che hanno detto non vi preoccupate sono buone perché noi siamo pieni di OGM, il cotone, l'85% del cotone coltivato al mondo è OGM, la soia più dell'80% è OGM coltivato al mondo, quindi noi tutti i giorni ci interfacciamo, usiamo gli OGM sia per motivi alimentari sia per altro, quindi studiamoli, non dico che sicuramente saranno positivi e risolveranno i problemi del mondo, ma fateceli studiare. Poi siamo in grado, a parte chi vi parla, ma gli scienziati italiani sono tra i migliori al mondo e questo lo vediamo continuamente, quindi fateceli studiare, poi vi diremo se sono buoni o buoni. Hanno delle potenzialità interessanti. Hanno delle grandissime potenzialità, ma grandissime davvero, sul DNA ormai l'abbiamo sequenziato completamente, sappiamo tutto, quindi è facile anche lavorarci, se avremo la possibilità di farlo. Grazie, invece chi deve fare i conti anche con l'aspetto di marketing e quindi deve eventualmente produrre e vendere un vino che viene da uve geneticamente modificate, come si pone di fronte a queste nuove tecnologie? Prima di tutto pensiamo agli effetti che questo potrebbe avere, immagina di togliere completamente dalla viticoltura, qualsiasi utilizzo di fitofarmaci, fantastico, non devi fare più niente, sai che resisterà a ogni problema. Bene, però cosa vuol dire? Vuol dire che se non c'è una regolamentazione molto ben precisa, pianti vigna dappertutto e quindi cosa vuol dire? che sconvolgi la biodiversità di una zona che è una cosa terribile, oppure questo cosa vuol dire? Può avere un effetto sui mercati pazzesco, se tutti possono piantare, sapendo anche nelle zone pianeggianti e umide, sapendo che la loro vite verrà fuori discretamente bene, ci sarebbe un'invasione potenzialmente di vino. Detto questo, io sono d'accordo col professore, cioè un conto, e mi corregga se sbaglio, un organismo geneticamente modificato transgenico, cioè mettiamo, io ho una vite che fa fatica a resistere al freddo, prendo un gene da un pesce del Baltico e lo metto nella mia vita e così resiste al freddo, quello è inaccettabile evidentemente. Però se troviamo un gene di un Sauvignon in Francia che aiuta la mia garganega nel soave, se c'è una regolamentazione molto precisa, studiamola come diceva il professore, o ancora meglio se si tratta solo di togliere un pezzettino per fare in modo che l'agente patogeno non riconosca più la vita e quindi la lasci stare, io penso che sia molto positivo se propriamente regolamentato e utilizzato correttamente. Aggiungo un'ultima cosa, non ci dimentichiamo, queste modifiche di DNA non hanno niente di diverso da quello che accade normalmente in natura. È chiaro che io voglio cercare in natura una modifica del genere, magari mi ci vogliono 800-900 anni, ma non è detto che non succeda, per cui non c'è niente di diverso, solo è molto più precisa, perché so qual è il gene, so dove intervenire e cosa fare. Va bene, tempi lunghi, ma non così lunghi. Va bene, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Riccardo Pasqua e il professor Zoma Battista Matti e il Warren's Fest, continuo. Grazie. Grazie.